Poi va via, ottimamente ancora il lavoro di Toku. Si infila, mezzo a due Toku, zona tiro, prova a piazzarlo! Vola! Poi su Lei Toku, steso, faccia di rigore. Palla ancora di Maruki Trissan. Ghosi there, and it's a fort! A brilliant goal set up by the industrious running in... è tutto il Gana, ha fatto un mistake, ha fatto un'è! E Gavon hanno si fissuto in fronte! Perché è Tuck! Un'altra cosa che ha fatto, un'altra cosa che ha fatto, un'altra cosa che è stato fatto, Sì 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.